salve a tutti benvenuti a una nuova puntata in piena salsa con grano salis del mio format sardiana io sono jana sagoga la vostra jana di fiducia e oggi sono molto felice di poter affrontare un argomento che è congruente a tutto il discorso che abbiamo fatto finora riguardante la sardegna nello specifico parleremo di femminino sacro abbiamo con noi alessandra p benvenuta alessandra grazie ciao a tutti a tutte ciao alessandra è un piacere averti qui noi nel nostro nel nostro format abbiamo già un po steso l'argomento su diciamo tutte le questioni un po generalizzate riguardanti la cultura sarda quindi abbiamo affrontato un po di argomenti vari nello specifico adesso volevo parlare un po con te appunto di femminilità in linea generale incomincierei la nostra chiacchierata come al solito cioè chiedendoti se per favore potresti darmi dei brevi cenni sulla tua formazione personale sì allora io ho studiato archeologia in particolare archeologia preistorica sarda lavoro infatti nell'ambito dei beni culturali in un parco archeologico per lo più però mi sono sempre interessata di antropologia culturale mitologie storie ehm tradizionali ecco eh inoltre mi piace molto scrivere quindi scrivo sia a livello personale diciamo perfine terapeutici nel senso che mi serve un po per rielaborare sempre tutto eh e poi anche sto iniziando a scrivere insomma poesie storie racconti eh di vario genere questo è un po diciamo la mia bene quindi insomma una formazione culturale classica diciamo no sì sì diciamo di sì abbastanza classica che ti ha portato poi ad affrontare in modo più approfondito eh determinate categorie e nello specifico diciamo possiamo dire tranquillamente un po ciò che è il lato irrazionale eh istintuale dell'essere umano quindi quello femminile eh sì diciamo che quella è proprio una una cosa che ho nel sangue da sempre perché da sempre sono stata comunque attratta in particolare dalla eh dalle figure femminili ecco delle storie delle mitologie eh in particolare ho sempre sentito che c'era qualcosa di stonato nel modo in cui venivano raccontate e poi a questo si è aggiunto anche una un rapporto eccomio personale molto intenso di connessione con con gli elementi naturali ecco quindi eh diciamo che mi definirei in effetti una strega una brugia ottimo ottimo ci intendiamo in questo senso senza dubbio eh senti volevo farti subito una domanda importante eh volevo sapere che cosa che concetto avevi del racconto secondo te quale funzione aveva il racconto e ha ancora tutt'oggi il raccontare allora sicuramente una funzione molto forte della narrazione è quella di consolidare i rapporti umani e di unire eh attorno ad un'unica memoria ad un unico filo conduttore le persone quindi reinsaldare i rapporti per me il racconto a livello proprio sociologico e comunitario eh è come un focolare ecco alla stessa funzione del focolare attorno a cui ci si raccoglie per cui è proprio una funzione sociale in primis io credo proprio che una delle caratteristiche della dell'homo sapiens proprio già a partire dal paleolitico eh forse anche prima ecco già dai neandertal comunque per intenderci eh una delle funzioni una diciamo delle caratteristiche principali sia proprio questa della eh immaginare e della raccogliersi attorno ad un'unica narrazione senza dubbio sono convinta anch'io anch'io un retroterra di studi classico umanistico diciamo è antropologico per cui sinceramente penso proprio che il racconto avesse proprio questa funzione eh io adesso volevo farti una domanda a proposito di questo eh cioè se tu eh per esempio avessi coscienza del lavoro fatto dalla piccola stesse con donne che corrono con i lupi anche lei aveva un retroterra antropologico e un retroterra anche di tipo psicologico e la funzione inquadrata è questa quindi insomma ci dimostra che eh sicuramente eh la funzionalità del racconto dell'oralità della condivisione in fin dei conti poi fosse questo la consapevolezza del proprio ruolo della propria identità eccetera esatto sì lei eh per me eh è stata importantissima in effetti il suo libro è stato io lo definisco uno dei miei libri del risveglio ecco perché proprio dopo che ho letto donne che corrono con i lupi eh mi si è riacceso qualcosa dentro ecco come se fosse stato a lungo dimenticato e lei è riuscita a ritirare fuori ecco tutte queste cose che comunque avevo già dentro ma che erano sopite per cui sì abbiamo diciamo gli stessi riferimenti culturali ecco lei è sicuramente molto importante tra l'altro lei eh tocca un altro punto fondamentale che è proprio quello della fiaba che poi appunto le fiabe eh nelle loro varie stratificazioni e chiavi di lettura variegate no che si possono dare conserva una serie di significati molto profondi assolutamente significati archetipici no e questo per lei è stato facile poi visto il retroterra psicologico quindi anche jungiano immagino perlomeno è abbastanza evidente sì sì è più o meno una bibbia eh per quelle come noi diciamo esatto non è che corrono coi lupi posso dire che sicuramente è stato un punto chiave un po' per tutte noi quando ne parlo mi rendo conto subito che è stato un riferimento veramente per per tante a proposito di questo volevo chiederti infatti in questa sulla scia diciamo di questi argomenti cioè dell'importanza della eh della condivisione ma anche della del racconto eccetera come eh catarsi diciamo no e come ricerca identitaria eh tu nello specifico che tipo di ricerca hai voluto fare in termini di archetipi eh per quanto riguarda la cultura hai utilizzato comunque come riferimento alla tua cultura sarda? Allora sicuramente sono partita da lì perché ho un rapporto molto viscerale intenso con la mia terra quindi sicuramente è stata la prima la prima diciamo forma che sono andata ad esplorare eh ovviamente partendo da tutti quei miti che ehm che si sono innestati no sopra i luoghi archeologici per esempio quindi che si riconnettevano un po' anche ai miei studi di quel tipo storico quindi le Giannas ma anche semplicemente le eh le Bruges ecco tutta tutto quel filone lì per cui ho iniziato un po' questo percorso andandomi a esplorare tutti i vecchi racconti ma anche semplicemente eh diciamo parlando con le mie nonne facendomi raccontare tutto e mi rendevo conto che c'erano delle cose degli archetipi ecco tu li hai chiamati così quindi riuso il tuo termine eh degli archetipi che proprio erano come dei tasti dentro di me no che aprivano delle porte e quindi di volta in volta andavo a seguire quelli per cui ho fatto anche tutta una serie di pellegrinaggi in vari punti della Sardegna eh per esempio sono andata al al museo della magia a Seui eh sono andata a cercare i luoghi delle streghe eh insomma ho fatto tutta una serie appunto di giri anche di questo genere ma eh in generale proprio c'erano mi rendevo conto delle figure che nel modo in cui erano narrate le Gianas in primis eh nascondevano delle delle altre cose e quindi mi affascinava questo sentivo che c'era qualcosa sotto e allora andavo a cercare no a cercare sempre più in profondità ehm diciamo che un po' rispecchia in effetti anche eh il lavoro archeologico no perché l'archeologo scava no e va di strato in strato sempre più in profondità ecco questa stessa cosa io l'ho fatta anche dentro di me a partire proprio dalle dalle storie dalle mitologie che avevo attorno beh sicuramente la tua formazione personale ti ha portato ad avere un metodo molto specifico in questo senso un po' di deformazione professionale ci sta diciamo eh allora a proposito di questo eh non non tanto dell'archeologia di per sé ma proprio dei luoghi archeologici eh cosa personalmente ti ha colpito cioè nel senso che cosa ricerchi nei luoghi archeologici cosa ti aspetti da loro al di là insomma di tutte le questioni eh storiche diciamo accademiche mh a un livello diciamo più profondo cosa ricerchi in questi luoghi? Allora è come mh diciamo se eh in questi luoghi fossero delle soglie eh a me ha sempre affascinato l'oltre cioè andare oltre le cose eh diciamo comuni per cui nei luoghi che sono del passato è come un una possibilità di contatto con delle culture diverse delle culture che non ci sono più ma che in qualche modo hanno lasciato delle tracce e quindi quella traccia lì è come un un passaggio no una porta eh questo mi ha sempre affascinato forse è stato proprio questo che mi ha portato a fare questo tipo di studi questa sensazione di eh di poter entrare in contatto con delle cose molto lontane. Eh tu nel tuo lavoro hai comunque potuto anche toccare con mano eh diciamo questo tipo di forte energia chiamiamola così ho sempre un po' paura perché ovviamente in questo mondo moderno dove si intersecano mille posizioni mille punti di vista si rischia sempre di essere tacciati o di new age o di cose simili però insomma energia ci intendiamo dei luoghi che comunque hanno una forte vitalità in questo senso tu hai hai potuto toccare con mano in tanti luoghi questo tipo di esperienza. Oh beh sì sicuramente sicuramente ci sono dei luoghi che eh hanno delle caratteristiche di pace proprio che una volta che tu ci sei lì eh hanno delle delle sonorità dei colori delle caratteristiche pro proprie che eh sono diverse dalla dal dai posti attorno è come il concetto diciamo di circolo rituale di circolo sacro no che ciò che sta dentro è diverso da ciò che sta fuori il tema dei dei greci è proprio un modo di diverso di sentire lo spazio quindi al di là ecco del fatto magari eh di chi crede nell'energia o di chi sente delle energie particolari e chi no ecco sicuramente eh una un approccio non soltanto razionale ecco ehm è molto più completo ecco ai luoghi ai luoghi archeologici così come a tutti gli altri eh io ehm sono molto razionale quando mh diciamo devo ricostruire dei fatti logici però io credo che ci sia una distorsione nella eh cultura occidentale moderna per cui si è data molta troppa importanza diciamo al lato razionale oltretutto eh mettendolo gerarchicamente al di sopra di altri fattori che invece sono determinanti nell'essere umano per esempio il fattore emotivo quindi le emozioni che si provano devono far parte della dell'esperienza di un luogo assolutamente e fingere che non ci siano è soltanto una limitazione che eh ti depriva e infatti io ho provato proprio questa cosa nella mia esperienza personale cioè quando ero completamente nella nella mia testa quindi nella dimensione esclusivamente intellettuale eh ero perfetta nella logica ecco nella razionalità però mi sentivo morire cioè ero proprio sterile dentro eh per cui riscoprire invece la validità e l'importanza di tutti quei lati invece non razionali ma emotivi e profondi selvaggi no come direbbero le donne che corrono con i lupi eh mi ha in qualche modo fatto rifatto eh far pace con me stessa con la parte più profonda di me sono assolutamente d'accordo con te in riguardo soprattutto l'aspetto eh diciamo del mondo occidentale di aver voluto dare questa eh priorità gerarchica assoluta del raziocinio a discapito poi di ciò che può essere anche definita tranquillamente intelligenza emotiva l'intelligenza non può essere limitata alla logica ma dovrebbe essere limitata a tutta un'altra serie di fattori non parliamo poi della senso della sensorialità no ehm tutti in tutti i sensi diciamo eh non dico tanto sensitività quanto proprio tutto l'apparato dei sensi anche questo viene considerato come qualcosa insomma di poco conto ma in effetti fa parte totalmente dell'esperienza umana eh del modo di approcciarsi di ogni essere umano alla realtà che lo circonda e che in teoria dovrebbe creare questo forse anche l'aspetto principale poi del eh della femminilità e del femminino cioè questo di avere la coscienza di essere dei delle creatrici fondamentalmente. Certamente anche perché poi io credo che dall'affinamento sensoriale e dalla eh da quella parte lì ecco arrivi anche la capacità intuitiva che in realtà è strettamente poi legata ai processi anche razionali eh però appunto mh non gli si dà la dovuta importanza no? Ci sono stati comunque anche dei eh dei geni vabbè adesso mi viene in mente Einstein no? Tra i più conosciuti che davano comunque eh importanza anche la parte intuitiva eh perché avevano capito ecco la eh l'importanza anche di quel fattore però secondo me ecco la parte intuitiva è proprio legata ad un'ipersensorialità quindi ai sensi talmente aperti e talmente allenati talmente liberi che eh innestano dei meccanismi no? All'interno eh della persona per cui ti portano ad avere quella lampadina no? Che si accende e che non puoi spiegare razionalmente però si accende. Assolutamente d'accordo assolutamente. Ehm hai dei nomi specifici di luoghi che ti hanno particolarmente colpito Alessandra riguardo alla Sardegna? Eh sì beh sicuramente Pranumutedu che è il parco dei Menhir no? Non so se lo conosci è una necropoli. Assolutamente infatti ne approfitto per dire che è uno dei luoghi che mi ha dato le sensazioni più forti in assoluto. Eh ho abbastanza amore eh diciamo per le pietre fitte essendo comunque legata eh anche a livello di sangue all'aconi quindi immaginati Menhir sono qualcosa eh profondamente iscritto dentro di me quindi sono andata un po' con molta eh discrezione diciamo a toccare con mano anche le pietre fitte degli altri territori della Sardegna e Pranumutedu insieme a Biru e Gonca se disorgano sono dei luoghi che veramente mi hanno profondamente profondamente colpita quindi sono d'accordo assolutamente con te in questo senso. Sì anche per me diciamo che ha due degli elementi che mi mi toccano profondamente che anche per me sono la pietra sicuramente e anche gli alberi perché poi comunque lì c'è un bosco secolare ecco per cui questa questo binomio tra questi alberi secolari queste pietre antiche immerse poi appunto in questo contesto sono davvero qualcosa di potente per cui ho instaurato con quel luogo una sorta di simbiosi proprio una connessione eh sotterranea profonda molto bello questo aspetto infatti ne approfittiamo per parlare un po' di elementi dato che insomma anche tu hai anticipato il tuo forte legame con gli elementali e gli elementi eh abbiamo parlato di pietra e abbiamo parlato di legno vivo parliamo prima della pietra cosa ti lega alla pietra che secondo te che funzione ha nel rapporto col femminile la pietra eh la pietra è un elemento fortissimo e forse uno di quelli che sento molto in cui sento molto forte anche la sardità perché sai eh non so come sarda proprio un rapporto particolare con la pietra ogni pietra in Sardegna ha una storia una forma che si ricollega no ad altre eh per cui è sempre una pietra viva che contiene qualcosa io nella pietra proprio mi sono chiesta tante volte eh come mai per esempio anticamente si eh collegasse la pietra alla fertilità perché la pietra sembra proprio qualcosa di molto lontano no dalla vita dalla dalla fertilità quindi eppure le donne andavano a sdrusciare il ventre no sulla pietra per eh assorbirne no la il potere generativo e quindi mi sono chiesta come mai succedeva questa cosa è come se la pietra contenesse uno spirito qualcosa eh che non si vede ma c'è tu ne senti la forza e quindi ho sempre sentito ecco questo legame qua e e poi quando andai eh a conoscere Pinuccio Sciola nel suo eh nel suo giardino no di San Sperate mi colpì molto che lui in maniera quasi sciamanica aveva utilizzato questo stesso senso che sentivo anch'io nella sua arte e lui diceva appunto di tirare fuori dalla pietra la voce no della pietra quindi la voce del fuoco per le pietre eh vulcaniche o la voce dell'acqua per le altre pietre eh fluviali eh per cui ehm in qualche modo ho pensato ma allora no non sono matta io eh allora è così ecco c'è una forza dentro le pietre e ehm e anche se non è facilmente definibile perché adesso la loro forma è in qualche modo fossile minerale però c'è questa no questa forza al loro interno sì in un certo senso è un po' come se fosse diciamo un connubio tra terra e e acqua sedimentato negli anni no tecnicamente è così però come se ci fosse una sorta di come posso dire matrimonio sacro tra questi due elementi io sono abbastanza d'accordo con te perché archetipicamente viene considerata androgina però è vero che è molto ha molto la funzione di specchio la pietra cioè anche io la penso come te nella pietra sento molto l'identità sarda eh sì poi vabbè ovviamente dipende anche dalle pietre perché eh per esempio se parliamo dell'ossidiana lì si sente proprio una energia molto diversa no molto forte di di unione tra elementi molto diversi come il fuoco e la il ghiaccio no perché l'ossidiana è un'altra di quelle pietre veramente incredibili però è completamente diversa e con la sua energia da invece una pietra che so come eh l'arenaria o il granito ecco ogni pietra poi ovviamente ha una un'impronta molto diversa a seconda degli elementi da cui è stata generata no dagli eventi che l'hanno creata assolutamente sono assolutamente d'accordo con te in questo senso la Sardegna eh è molto bella nel senso che è molto variegata ogni regione sub regione storica insomma ha poi le sue peculiarità in questo senso no e poi da lì anche la la sua energia diversificata io questo eh lo posso confermare senza dubbio e l'ossidiana è assolutamente una pietra molto molto particolare nera però altrettanto eh solare proprio per il fatto di essere stata creata col col fuoco no e quindi anche un po' funzione di specchio propriamente detto in questo senso esatto eh invece possiamo parlare anche del legno e del tuo rapporto col legno vivo o col legno in linea generale eh allora sì la il legno appunto nella nell'elemento della dell'albero in particolare è proprio è qualcosa di veramente ancestrale io davanti a un albero è come se mi trovassi davanti al sacro lì manifestato per cui ho veramente eh un'emotività ecco molto forte in quel in quel caso soprattutto davanti ad alberi eh ovviamente antichi ehm poi invece per per quanto riguarda in generale la legna ehm è una sorta di di contrasto questo che ho dentro perché ehm perché trovo strano ecco che eh ci sia questa relazione tra eh la legna e il fuoco no è un qualcosa dentro di me di 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 affascinante ma di inspiegato in qualche modo mi crea dei problemi che non so neanche ben descriverti come uno stridore interno no nel senso che la legna eh deve bruciare no per realizzare il fuoco e quindi in qualche modo è legata a questo elemento no? eppure è qualcosa di 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 vivo come l'hai definito tu la legna viva però però da lì scaturisce il fuoco e poi eh mi si ricollega ovviamente subito per eh ovvie esperienze sarde eh agli incendi no? e quindi questo rapporto veramente eh non lo so contrastante con tutti questi elementi che sono in connessione l'uno con l'altro e non c'è non c'è una separazione ecco forte tra l'uno e l'altro per cui mi risucchia ecco questo vortice è una cosa un po' difficile per me. ma guarda Alessandra in realtà non sentirti è troppo strana perché io penso che sia mh sicuramente tipico di chi ha una particolare sensibilità ehm e sensitività chiamiamola anche così eh è anche poi tipico di chi vive i boschi fondamentalmente perché il fuoco è ehm terrore è il nostro terrore fondamentalmente no? eh contemporaneamente però anche il nostro amore perché appunto è ciò che in linea generale ti permette di riscaldarti durante l'inverno quindi sicuramente il rapporto col fuoco in chiave eh legno alberi è sicuramente sempre molto ambiguo molto contrastante sono d'accordo con te è una sensazione eh che provo assolutamente anch'io eh ne approfitto allora di questo tuo breve inciso anche per dirti eh per esempio la la quale io ho penso questo che la funzione per esempio dei fuochi di Sant'Antonio a gennaio siano sicuramente quelle di dare grande importanza alla luce in un periodo insomma dell'anno in cui eh si è da poco passato il solstizio e contemporaneamente no aprire eh le danze al carnevale eh quindi a tutto ciò che è chiaroscuro in questo senso ma tu non pensi che per esempio eh questi falò abbiano anche comunque la funzione un po' apotropaica di allontanare del fuoco estivo no? Eh questo è un riferimento sì interessante perché eh vabbè forse essendo nel cuore dell'inverno è più facile no vedere il significato invece proprio della luce del del riscaldarsi però sicuramente ecco questo degli incendi immagino sia insomma un problema eh molto antico per cui è come se fosse un un terrore secondo me che è diventato quasi genetico per noi eh e quindi sì potrebbe esserci ecco che eh in qualche modo possa possa esserci questo significato no di in qualche modo di controllo anche del fuoco un tentativo umano sai che eh so gli esseri umani da sempre cercano di di controllare no gli elementi perché ne hanno paura no? Effettivamente essere in balia ecco gli elementi così forti fa paura eh e quindi c'è sempre un po' la la sfida dell'uomo con gli elementi naturali no? proprio questa natura e cultura c'è sempre questa spinta e questa sfida eh poi è comunque interessante notare che sicuramente eh Sant'Antonio viene festeggiato di più nei luoghi boscosi ma questo anche per una questione molto pratica di risorse però sicuramente un aspetto apotropaico siamo abbastanza campioni dell'essere apotropa poi anche anche in effetti il saltare il fuoco il girarci attorno sono tutti tentativi no? Di in qualche modo di avere una relazione con questo elemento che sia meno distruttiva no? Che poi spesso purtroppo per per la cultura umana diventa un appunto un sottomettere no? Un controllare in quel senso eh però sì penso che ci siano ecco anche tutti questi riferimenti. sì sì anche secondo me sono d'accordo con te ehm passiamo invece a parlare del del libro che hai scritto insieme a Simona Ariancordara e che dalle ceneri antichi racconti per nuovi miti eh abbiamo iniziato questo questa nostra chiacchierata proprio parlando dell'importanza dei del racconto del mito giusto appunto eh io volevo sapere esattamente a quale figure fate riferimento all'interno di questo testo eh in che modo vi siete lasciati ispirare? Allora in questo testo diciamo che abbiamo preso delle figure che provengono sia dalla tradizione storica delle streghe quindi figure reali di streghe di varie regioni italiane eh soprattutto eh per cui poi rielaborate e poi figure eh mitologiche sempre femminili di cui due sarde che ho scritto io appunto che sono la le panas e le cogas eh quindi eh noi siamo partite ecco da queste narrazioni tradizionali eh e poi le abbiamo rielaborate secondo diciamo una un filone di riscrittura che ehm è quello di Merideli che parlava di risignificare quindi di dare nuovi significati alle parole le intendeva ma anche alle storie quindi qual è stato diciamo il filo conduttore? È stato questo eh cosa succederebbe ecco se le storie eh in cui ci sono queste figure femminili spesso demonizzate spesso viste come eh cattive eh crudeli se fossero loro a parlare dal loro punto di vista e a dire la loro perché spesso eh io credo che nelle storie che sono arrivate fino a noi soprattutto quelle mitologiche ma anche quelle delle streghe eh c'è stata ovviamente una demonizzazione patriarcale per cui le le figure di donne che magari erano eh libere erano sapienti eh erano portatrici diciamo di potere eh sono state diciamo in qualche modo demonizzate in una società che invece voleva le donne ecco molto sottomesse molto a casa molto mansuete ecco per cui abbiamo provato un po' a scardinare questo quindi è a ridare una nuova eh diciamo identità a queste a queste figure forse in qualche modo riconnettendoci a quello che magari erano eh originariamente perché chi lo sa magari c'è stata anche lì appunto una stratificazione che ha cambiato le carte in tavola e questo è stato un po' il gioco che abbiamo fatto con le le storie a cui ci siamo riferite molto molto interessante Alessandra veramente molto interessante ehm quindi insomma chi sono le streghe moderne? Le streghe moderne? Eh siamo io e te per esempio veramente senza dubbio beh io credo che allora le streghe moderne ehm intanto siano tutte queste eh tutte quelle donne ecco appunto come noi adesso a parte gli scherzi che in qualche modo si stanno si stanno riconnettendo alla parte più profonda più vera di sé eh facendo pace con tutti quegli aspetti che eh la società appunto patriarcale iperrazionale eh meccanicistica quasi no occidentale aveva in qualche modo messo da parte e questo credo che sia molto importante non soltanto per le donne ma per la società tutta quanta perché eh questo disequilibrio tra tra le forze tra le componenti della persona ha ha lasciato segni profondi dentro di noi dentro ma anche in in generale nelle società nel nel pianeta perché anche a livello ambientale ecco io penso che sia tutto collegato eh e quindi sicuramente eh io chiamo streghe ecco queste donne che con consapevolezza stanno facendo questo cammino di riscoperta ecco di questi lati di sé e poi c'è anche un altro significato appunto delle streghe cioè eh appunto eh tutte quelle donne che non vengono comprese ecco dalla da una società mh che in qualche modo vuole le donne sottomesse ecco ancora oggi sappiamo insomma che ci sono molte discriminazioni eh una visione delle donne spesso semplicemente funzionale no a disservizio della dell'uomo eh per cui la donna che in qualche modo cerca di uscire da questi percorsi obbligati viene vista male e quindi eh viene eh in qualche modo considerata una strega in senso negativo no demonizzata ecco come quelle figure delle nostre storie che eh abbiamo voluto cambiare. Assolutamente d'accordo che poi questa funzione di servizio di strumento eh potrebbe anche essere mh reale nel senso potrebbe anche essere che eh il femminile abbia un ruolo appunto al servizio ma ciò non significa appunto gerarchicamente inferiore eh ed è un po' se ti collega un po' a quello che abbiamo detto all'inizio cioè il fatto appunto di eh vedere la logica il raziocinio eh come qualcosa di superiore rispetto alle emozioni un po' questo aspetto diciamo fisiologico eh dell'interiorità dell'essere umano si rispecchia nelle istituzioni e anche nel ruolo della donna poi nel mondo. Sì esatto perché eh in effetti eh per esempio la la capacità ecco di prendersi cura degli altri ma anche dell'ambiente degli animali di di tutto ecco è una cosa che io collego molto alla al femminile. ehm e però ecco sicuramente per come è stata concepita nella nella società attuale patriarcale eh in chiave appunto gerarchica come qualcosa no che ti mette al di sotto invece di altri valori eh più celebrati no come quelli guerreschi per esempio giusto per dirne una tema. eh allora ecco questo collocare queste caratteristiche in una piramide eh è ciò che ha creato secondo me questa distorsione. Le cose secondo me andrebbero messe in cerchio dove tutti i punti del cerchio ecco sono importanti per cui tutte le caratteristiche che compongono la le persone eh sono altrettanto importanti. Ecco vedere la diversità eh come eh gerarchica ecco questo è più importante questo è meno importante secondo me è la l'inizio di tutti i mali. Sono assolutamente d'accordo con te Alessandra. Prima di farti la prossima domanda ci tengo a dire che io e Alessandra non ci conosciamo per cui non è che Alessandra sta dicendo quello che io dico sempre o viceversa. Cioè io e Alessandra ci siamo conosciute per poter fare questo eh podcast insieme per cui è molto divertente che tu dica le medesime cose che io vado dicendo da molto tempo. Sappiate che non eravamo d'accordo perché stiamo parlando in modo così approfondito oggi per la prima volta. Eh ho fatto questo piccolo disclaimer perché è divertente veramente divertente eh confermo confermo proprio la questione del cerchio e della piramide è quasi un'ossessione per me perché comunque a proposito di archetipi questo proprio dimostra quali siano i limiti i limiti dell'essere umano perché eh l'essere umano eh vive in un contesto eh circolare come il pianeta Terra giusto appunto. Sì. Voglio far arrabbiare i terrapiattisti perché anche se fosse piatta sarebbe circolare uguale quindi siamo d'accordo. E invece continua a voler vedere appunto una ad avere una visione piramidale eh che la piramide sia verso l'alto che sia verso il basso in ogni caso è la circolarità il senso di tutto quindi assolutamente io Alessandra sono eh pienamente eh d'accordo con te. Volevo farti un'altra domanda che riguarda eh appunto questa visione appunto predatoria eccetera che mh spesso viene appunto ricollegata eh anche al maschile in questo senso no? Io eh adesso senza voler fare polemiche di nessun tipo diciamo opposizioni di genere io volevo sapere tu cosa ne pensi nel contesto specifico della Sardegna? Eh perché noi sappiamo comunque storicamente che la Sardegna eh diciamo ha un retrotella un retroterra di tipo matriarcale molto molto forte. eh tu pensi che comunque questo contrasto di questo tipo eh predatorio diciamo e anche patriarcale sia ancora evidente per un per qualcosa che è arrivato successivamente o che ci sia stato proprio una discrepanza interna a un certo punto della storia? So che ti sto facendo una domanda insomma eh cento milioni di dollari perché voglio dire che non abbiamo possibilità di rispondere a questo però volevo sapere cosa ne pensassi tu che idea che fossi fatta in questo senso. Sì allora io eh penso che in Sardegna così come eh anche altrove ci sia stato un momento di frattura molto forte tra le società appunto chiamate matriarcali eh cioè quelle circolari io intendo quelle ecco in cui le donne comunque avevano un ruolo eh di gestione anche della cosa pubblica eh ma non non c'era la gerarchia ecco intendo quel tipo lì di società circolari che eh inizialmente fossero diffuse sia in Sardegna sia in tutta la vecchia Europa e poi eh ci sia stato un momento di ehm di cambiamento feroce molto violento eh che si è susseguito ovviamente gradualmente nel corso del tempo e si è sovrapposto ovviamente non è stata una cosa eh diciamo immediata e per questo anche che in alcuni luoghi come la Sardegna per sue caratteristiche di vario genere eh sia geografiche sia mh economiche, culturali, insomma si è tenuto un aspetto magari in cui la donna ha eh mantenuto ecco una certa importanza almeno eh per quanto riguarda ecco la gestione familiare, la gestione della casa, Sameri e Domo no? Eh diciamo che era proprio considerata eh diciamo con un'importanza che forse altrove è venuta meno proprio forse legata anche alla società pastorale per cui i pastori comunque per tanto tempo stavano fuori casa per mesi e mesi per cui effettivamente nella nella nel paese ecco restavano le donne con i bambini eh gli anziani magari quindi era era tutto sulle loro spalle ecco per cui eh era considerato normale con queste figure di donne che eh svolgevano tutte le eh le operazioni eh lavorative sia in casa sia nei campi ecco io ho anche la mia esperienza personale per esempio di di nonne che erano il perno della famiglia e eh per dire eh l'uomo eh lavorava fuori casa perché questa è stata appunto la eh la discrepanza ecco ecco che c'è stata insomma nella nella società per tanto tempo eh però poi una volta tornato a casa eh diciamo che eh consegnava proprio il lo stipendio proprio alla 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 nonna ecco mia nonna che eh si occupava lei di amministrare ecco era come se eh fosse lei ecco la eh padrona di casa per cui io credo che mh in Sardegna essendo un'isola e avendo certe caratteristiche eh si sia mantenuto a più questo diciamo questo fattore però mh diciamo che sul matriarcato proprio sardo credo ci sia molta confusione soprattutto se si riferisce a mh appunto alle fasi moderne ecco io penso ci sia stato sicuramente una fase eh fino ad epoca ecco neolittica per dire per cercare con una cronologica una caratteristica cronologica in cui c'erano società circolari e poi però da lì in poi dall'età dei metalli in poi si siano instaurate le dinamiche proprio gerarchiche in cui hanno cominciato a prendere mano diciamo i guerrieri il il surplus per cui quel surplus eh andava amministrato andava difeso e quindi quella serie di dinamiche lì ha portato poi a alla piramide sociale sì non so se ho risposto insomma un po' alla tua domanda sì che è una domanda è risposta molto bene anche perché come dicevo prima insomma una domanda da cento milioni di dollari non è che si può rispondere con tanta tranquillità servirebbero servirebbero decisamente molti più dati per rispondere in modo preciso però in linea generale comunque anche la mia sensazione la mia percezione eh questa eh volevo chiederti ma quindi eh quando parlavi appunto di un matriarcato di insomma una fase iniziale circolare ecco che anche a me piace molto questa parola ehm intendi un po' le società gilani che anche quelle insomma inquadrate da Maria Gimbutas per esempio sì intendo quelle sicuramente eh la Gimbutas diciamo che nonostante inizialmente sia stata molto osteggiata dai eh diciamo dagli accademici e dalla storia ufficiale oggi è stata totalmente riabilitata anche perché ci sono state varie conferme delle sue teorie anche di tipo archiogenetico per cui eh sicuramente ci sono molte cose che eh rispondono al vero ecco nella sua visione eh storica e poi oltretutto io ho fatto degli studi eh anche sui matriarcati attuali non so se conosci la eh Abendrot eh ma anche la Francesca Rosati Freeman la Stefania Renda che sono tutte ricercatrici che hanno eh diciamo in qualche modo studiato le società dei matriarcati ancora attuali come in Mosso per esempio sono tra i più famosi non so se se ehm se conosci questa tribù perché ci sono delle comunità in cui c'è stata proprio la la persistenza di queste comunità che hanno ottenuto un'organizzazione di questo genere matriarcale poi ovviamente chi più chi meno perché per esempio eh c'è chi ha tenuto la matrilinearità la matrifocalità la matri il matriarcato diciamo classico per cui ci sono vari livelli ecco per per cui ecco verificando anche queste persistenze in epoca attuale allora eh possiamo in qualche modo fare questo ehm questo passetto ecco verso eh la ricostruzione storica e quindi hm che ancora di più ecco ci conferma che eh probabilmente si è partiti da dei clan matrifocali eh e matrilineari in cui appunto la società era amministrata da eh da donne e uomini insieme ognuno con il suo ruolo ma tutti con la stessa importanza ecco eh e poi a poco a poco determinate dinamiche sia sociologiche sia appunto di invasioni di altre popolazioni con altri tipi di eh di caratteristiche si sono sovrapposte ecco a queste antiche comunità e eh hanno portato ad una differente storia che è quella appunto che viviamo ancora oggi con tutte le sue cioè nel bene e nel male perché ovviamente ogni cosa poi ha una sua motivazione e c'è anche chi dà delle motivazioni non so se conosci c'è una una ricercatrice una biologa si chiama Bruna Tadolini che eh ha dato una motivazione anche proprio quasi darwiniana nel senso evolutiva della cosa per cui dice se c'è un'organizzazione o un'altra in una certa società e perché questo risponde a dei bisogni per cui lei ha tutta una sua teoria ecco ha scritto un libro proprio sull'evoluzione sull'apporto femminile ecco l'evoluzione nei gruppi umani per cui è un argomento sì che come vedi mi tocca molto e sì sto cercando di approfondire molto perché è molto interessante ovviamente anche perché può dare una chiave diciamo di possibilità futura ecco per delle nuove società che in qualche modo eh superino questa fase piramidale ovviamente non tornando indietro perché ovviamente sarebbe un'idealizzazione assurda non si può tornare indietro eh si deve sempre contestualizzare però che possa fornire diciamo degli spunti per dei nuovi modelli eh più equilibrati sì sì no assolutamente è un argomento molto molto impegnativo e per certi versi controverso perché insomma ci sono sempre mille accuse quando si cerca di affrontare questo tipo di argomento però è vero che nell'antropologia culturale eh il fatto che eh sia eh ogni evoluzione ogni etapa dell'evoluzione eh umana sia comunque legata in un certo senso a una consapevolezza eh femminile è anche abbastanza sodato insomma eh ci sono tanti studi che dimostrano che eh anche i cacciatori e raccoglitori abbiano avuto cognizione di causa del loro modo di eh approvvigionare le proprie risorse proprio attraverso eh l'intuito femminile in un certo senso e poi comunque abbiamo anche la mitologia della famosa Eva che purtroppo ha mangiato questa mela cioè ha destinato a tristi sorti tutte quante voglio dire conferma ce ne sono sia a tutti i livelli di di analisi sia razionale di di dati che appunto eh anche mitologica sì no sto ridendo perché hai citato Eva e questo è uno dei dei miti che abbiamo cambiato nel dentro il libro quindi se ti capita poi di leggerlo vedrai come l'abbiamo rielaborato e rienterpretato noi quella diciamo l'ho fatto a caso la la citazione non è stata una citazione a caso eh facendo un piccolo passo indietro e poi andiamo in conclusione Alessandra ehm volevo chiederti eh ci puoi parlare di almeno due figure all'interno del del vostro libro? Due figure? Allora ehm una delle una diciamo importante che infatti abbiamo messo anche in compartina è quella di Medusa eh ed è così importante proprio perché eh intanto è collegata all'elemento dei serpenti no a dei serpenti che lei aveva in testa era vista come un mostro e quindi ci ha ci ha affascinato perché eh ovviamente il il serpente è un simbolo archetipico ma è un simbolo molto legato alle culture eh antiche appunto circolari legate appunto al femminino sacro per cui eh subito ci ha ehm ci ha attratto perché eh ci sembrava che questa demonizzazione di questa eh creatura mostruosa nascondesse altro e quindi l'abbiamo voluta reinterpretare ecco ehm e dimostrare che questa figura in realtà non era così cattiva come la dipingevano ma è proprio l'esempio di come il patriarcato ha voluto in qualche modo eh distruggere e sottomettere le eh le figure di eh di donne o comunque figure femminili di potere per cui sicuramente è una figura importante quella di Medusa e poi mh c'è una strega per esempio così cito una mitologica e una invece di streghe eh una strega abruzzese che si chiamava Melinda eh che mh è una figura di strega mh diciamo moderna nel senso che una una figura che è vissuta a cavallo tra l'ottocento e il novecento quindi un po' una strega tipica però che sicuramente poi riporta anche dei cliché di streghe eh precedenti eh questa figura di donna che fu sedotta e abbandonata e allora poi lei eh diciamo andò a a studiare da una da un'altra strega eh fece una fattura per legare a sé questo uomo che l'aveva abbandonata eh e poi ecco si eh visse diciamo ai margini della società dannandosi ecco la l'anima eh poiché si dedicava appunto a fare sortilegi, fatture per cui la comunità da un lato si rivolgeva a lei no per fare certe pratiche però sempre di nascosto sempre e invece formalmente eh accusandola di tutto ehm e poi ecco la cosa interessante è che mh questa figura probabilmente nasconde eh delle altre questioni per esempio c'è una lettrice del libro con cui poi abbiamo interagito che ha ipotizzato lei è abruzzese che questa figura nascondesse dietro questo mito della seduzione e abbandono invece uno stupro perché poi eh questa donna ebbe due figli quindi dei figli fuori da una relazione diciamo eh da un sacramento ecco quindi ecco questa figura che che ci riporta anche a queste no a questa demonizzazione della sessualità femminile per cui anche questa sono abbastanza significativa. Assolutamente un po' si rifà tutti gli argomenti che abbiamo trattato in tutta la nostra conversazione. Alessandra grazie mille. In chiusura ti faccio un'ultima domanda. Vuoi dire qualcosa alle donne che ascoltano il formato di Sardiana? Allora io eh vi dico di eh seguire i vostri sensi e di andare a ricercare le soglie ecco tutti quei tasti che vi sembra che dentro di voi vi eh vi parlino non pensate di essere pazze non siete sole ci siamo qua noi contattateci e insieme ecco possiamo eh diciamo riconnetterci alla parte più più vera di noi. grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. È stata una bellissima chiacchierata formativa eh sono molto contenta di averti conosciuta eh ti abbraccio fortissimo. Grazie. Anche da parte mia. Ciao cara. Ciao a tutti e a tutte. Grazie mille. Grazie a tutti.